Oggi vi faccio vedere come rimuovere la protezione di scrittura su uno dei nostri dischi. Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale. Io sono Carlo e oggi vi voglio far vedere come rimuovere la protezione di scrittura su uno dei nostri dischi. Voi mi direte perché la devo rimuovere. Il problema è che purtroppo tante volte capita, magari a voi non è mai capitato, ma su dischi magari un po' anzianotti che lavorano da tanti anni può succedere che spesso si abilita in automatico la protezione di scrittura. Quindi questo significa che io non posso più scriverci dentro, quindi il disco rimane in una sorta di limbo frizzato e quindi per me è inutilizzabile. Vi faccio vedere. Nel mio caso questo problema ce l'ha questo disco esterno J. Quindi io clicco due volte sul disco J, apriamo Virtual Machine, ho aperto una cartella qualsiasi, questa è una cartella con le mie macchine virtuali. A questo punto io prendo un file qualsiasi che ho sul mio desktop, lo trascino e come vedete bene, adesso ragazzi ve lo ingrandisco, qui dice disco protetto da scrittura, rimuovere la protezione da scrittura o utilizzare un altro disco. Quindi io posso anche fare riprova, posso anche fare riprova, ma non c'è verso che io possa inserire questo file all'interno di questa cartella. Ma come vedrete ora, anche se faccio un tasto destro per creare una nuova cartella, io non lo posso fare perché lui mi dice annulla, elimina e qui mezzo dopo annulla, elimina, c'è proprio fatto di creare una nuova cartella. Ve lo faccio vedere cliccando sul desktop, eccolo qua, vedete che ho un nuovo e qui posso creare una nuova cartella, mentre invece nel mio caso io qui non ce l'ho, non posso creare niente. Anche se vado su mostra altre opzioni, vi accorgete che non posso creare nulla, quindi in realtà questo disco per me è totalmente frizzato. Ma andiamo a vedere adesso piano piano come risolvere questo problema. La prima cosa da fare è quella di andare a individuare la lettera del nostro disco. Quindi in questo caso io ho visto che la mia lettera è la lettera J. Benissimo, quindi una volta appurato che è la lettera J, io vado con il tasto destro sul tasto Start e vado esattamente su gestione disco. Eccolo qui, gestione disco. Clicco su gestione disco e a quel punto lui mi aprirà la gestione disco, chiaramente, scusate il fatto di il gioco di parole, dove ci saranno tutti i dischi, che sono questi che vedete qua. Qui in alto io ho esterno J, lo vedete qua in blu, ve lo faccio vedere, ve lo ingrandisco un secondo. Eccolo qui, lo seleziono e come vedete qua sotto, lui mi dice che esterno J, J chiaramente è la lettera, è il disco numero 5. Ragazzi, ci dobbiamo ricordare disco 5. Questo è essenziale perché ci servirà dopo, quando andremo a utilizzare alcuni comandi per l'appunto di Dispart e dovremmo chiamare il disco incriminato che ha questo tipo di problema. Comunque, una volta capito che è il disco 5, se non ce lo ricordiamo ce lo appunchiamo su un pezzettino di carta, ma credo che insomma è una battuta questa, ci mancherebbe. A questo punto io posso richiudere la mia gestione disco e andare a aprire il prompt dei comandi. Quindi arrivato qui sotto il menu start, scrivo CMD. CMD è il prompt dei comandi, eccolo qui, la cosiddetta schermata del DOS, eccolo, che scusate qui ho ingrandito troppo. A questo punto ci vado con il tasto destro e gli dico esegui come amministratore. Ragazzi, ricordatevi questo, perché dovete farlo come amministratore. Gli dico esegui e a quel punto lui mi aprirà il prompt dei comandi. Lo mettiamo più centrale, eccolo qui. Adesso la prima cosa che dobbiamo andare a scrivere è esattamente diskpart. Mi raccomando, non prendete nota, perché questi comandi sono 4-5 comandi da poter scrivere. Ve li metto tutti quanti nei commenti, quindi potete tranquillamente andarli a leggere, appuntare o li tenete lì. Quindi scriviamo diskpart e entriamo dentro il diskpart. Diskpart è un software interno al nostro Windows che ci permette di gestire i nostri dischi. A questo punto io devo andare a dire a diskpart, anzi lo vado a fare per me, gli dirò di vedere la lista dei dischi. Allora scriverò list disk, eccola qui. E a quel punto lui mi farà vedere tutti i miei dischi che sono qui dentro, compreso il disco 5. Eccolo qua. È online, 931 giga e via dicendo. Che è il nostro disco incriminato. Adesso io per poter operare con diskpart devo entrare nel disco, perché chiaramente io così i dischi li vedo tutti, ma non sono all'interno di quel disco. E allora per entrare dentro quel disco, ragazzi, guardate bene, devo scrivere select, quindi seleziona in questo senso. Gli dirò disk, perché lui parla inglese, non parla in italiano, disk 5. Quindi io gli sto dicendo di selezionare il disco 5. Premo Enter. E lui mi scrive il disco attualmente selezionato, guardate ve lo ingrandisco. Il disco attualmente selezionato è il 5. Quindi io adesso sto operando all'interno del disco 5. Qualsiasi cosa faccio, lo faccio internamente al disco 5. Ora, io che cosa devo scrivere adesso? Io devo scrivere attributes, eccolo qui, attributes, disk, clear, read, read, only. Quindi attributes, disk, clear, read, only. Va bene? Questo è quello che dobbiamo scrivere. Adesso, una volta scritto attributes, disk, clear, read, only, do Enter. E a questo punto, disk part, che cosa farà? Mi dice cancellazione degli attributi del disco completa. Cioè io vado a rimuovere gli attributi di quel disco. Una volta che ho fatto questo tipo di cosa, posso andare a digitare exit e posso digitare a questo punto. Un'altra volta exit e ho chiuso il prompt dei comandi perché non mi serve più. Adesso che cosa vado a fare? Riaprirò il mio disco esterno, apro la mia virtual machine, prendo questo file di test, lo trascino e a questo punto il mio file di test è entrato. E non ho nessun problema. Posso andarci col tasto destro. Vedete che adesso ho un nuovo, eccolo qui, cartella. Eccolo qui e mi ha creato una nuova cartella. Addirittura posso prendere questo file, trascinando sulla nuova cartella e a questo punto il mio disco è tornato a funzionare in maniera regolare. Quindi ho risolto perfettamente il problema di rimuovere la protezione di scrittura con quattro semplici comandi che vi lascerò in descrizione. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, ma soprattutto se vi è stato utile questo video. Perché magari tanti si trovano a formattare, a buttare via tutto all'aria, mentre in realtà basta soltanto cancellare gli attributi. Dobbiamo fare solo quello e il disco riprende a lavorare correttamente. Se poi magari il disco si ripresenta a questo problema perché viene rigenerato normalmente, possiamo ripetere questa procedura. Togliere gli attributi al disco e il disco ricontinua a lavorare regolare senza nessun tipo di problema. Quindi, come vi ho detto, se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel like, iscrivetevi spuntando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se questi contenuti vi piacciono, quindi a questo punto vi arriverà una notifica. Commentate se volete, insomma se avete da commentare, io sono ben felice di rispondervi. E noi ragazzi ci vediamo a un nuovo video di questo canale. Grazie. Grazie.